Ho formulato stamattina una missiva al ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando per richiedere un incontro urgente anche con la struttura tecnica del di Castero al fine di vagliare le possibili soluzioni in merito al futuro dei lavoratori della ex Novolegno che nel prossimo mese di maggio si ritroveranno completamente fuori al mercato del lavoro con la scadenza della Naspi. A dichiararlo in una nota è il sindaco di Montefreda Neciro Aquino che aggiunge tale scadenza costituisce motivo di grande preoccupazione per le famiglie degli ex lavoratori ma anche per le comunità che ricadono nella provincia di Avellino che si trovano a fronteggiare da circa due anni questa avvertenza tra le tante in essere che appesantiscono il già pesante bilancio sociale della disoccupazione. In una recente ricerca dell'Istat in Irpinia il tasso di occupazione tra i 20 e 64 anni per i maschi è pari al 60% mentre per le donne è al 46%. Il tasso di occupazione giovanile tra i 15 e i 19 anni è pari al 31,7% per i maschi e al 13% per le donne mentre per i net giovani che nella nostra provincia ne lavorano e ne studiano rappresentano il 20% della forza lavoro. Alla luce di questi dati è evidente che non è possibile disperdere ulteriori posti di lavoro pertanto sarebbe opportuno e doveroso attivare ogni forma di iniziativa tesa a valorizzare anche la riqualificazione professionale attesa che lo stabilimento ex Novo Legno è sito in una zona ZES ossia zona economica speciale per cui è oggetto di alcune manifestazioni di interesse che potrebbero consentire una ripresa produttiva in questo pificio conclude così il sindaco della cittadina della Valle del Sabato.